Facciamo una nuova stanza. Guarda qui c'è la cesta, vedi? E quindi? Adesso. Che è quel buco? Quello che quando è scappato... L'ho ancora. Allora prendo quel carbone strano, qui ne levo a metà. Allora, io a questo ci metto... Mi sembra il marble. Guarda, ci ho messo il carbone potenziale così dura per più. Io ti dico, escavate... Quanto lo facciamo grande? 15. 15 completi sono un po' troppi. 15 per 15, non è tanto. Guarda le mie spalle, i cosi. Che spalle? I alberi. Non ci passa lì. Guarda, vedi? Adesso il primo lo fa a largo perché sta sollevato da terra. Eh, fai un tubo che passa sotto casa che va direttamente alla cassa a sto punto. Che è... No, non così. Te lo dico io come. Da qui. Esatto. E lo fai passare a bordo bordo. Bordo bordo casa. Bordo bordo. Tutto il giro. Ah, qui. Dici. Così. No. Bordo bordo casa e questa casa. Ah, è vero perché ora bisogna portare tutta la roba al query. Infatti ora cambio pure quella cassa della miniera. La porto qui. Il tubo. C'è ragione. La fai passare a bordo bordo. Enderman. Tu mi hai rotto qualche cavolo. Pazzo ci serve il vetro. Ce la sappiamo. non c'è più il vetro. Non c'è più sabbia. Qui c'erano solo cinque. Però qui vedo un arbo. Te lo dite per andare a fermi. Vedo un arbo. Vedo un arbo. Vedo una poca. Ed è qua. Sta a fare l'altro. C'è sta scalato degli alberi. C'è sta scalato un arbo. C'è questo qui va tutto giù. Questo può fare 15 per 15. Padovo scende 15 per 15. Scende 15 per 15. Scende 15 per 15. Scende 15 per 15. Scende. Quindi andrà giù. Però... Questo è una falsistama del da questo cavolo di cosa. Eh, l'Aqueos. Eh, l'Aqueos funzionava. Ci credi che me ne manca uno? Cioè me ne manca uno? Uno? Io c'erano due. Dove stai? Non manca più. Non lo so, ma te lo merito. E' che? Si. Ti ho dato la mano. C'è lo voglio. Allora, fammi l'Aqueos funzionava. Allora, eh. E' tutta storia. Vedè? E' sto un buco, tu l'avevi già visto? Il buco. Guarda, questa è la miniera mia, no? No. C'è un enderman dentro. No. Non l'avete visto quello. C'è un enderman dentro. C'è un enderman dentro. C'è un enderman dentro. C'è un altro là. C'è un altro là. C'è un altro là. Non lo so. Non è non solo, ma è sì non lo so. Pensavo fosse lo schermo. Ok. Non lo so che tra 5 anni circa che mi stiamo a stare. E' va bene. Non è problema. Cominci a farlo verso l'Aqueos va? Mi serve la pin. guarda un po' che è uscita dal coppia d'ore alla polvere d'oro oh è buona dopo la metto lì per quando si puliscono si, doppia, no 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 e il copper e la sabbia guarda il polverizzo di copper guarda lì non è che ci abbiamo doppio lol da lì da quella cassa io gli farei partire un tubo dietro che va il barrel alla cassa del barrel in modo che è così io ce ne ho già il barrel ce ne ho 6 vai a far un po' di legno negli ultimi 4 minuti che te vedo volevo continuare a cercare un nuovo metter un altro po' di sta roba mi serve un po' di legno mi serve un po' di legno mi sto per provare il quarry che hai fatto bisogna collegarlo a una cassa vicino al polverizzo queste qui in modo che poi noi ci trasferiamo la roba a mano è buono ecco bisogna usare i tubi quelli che differenziano la presente quindi non so se ci stanno ancora ma poi è un po' di difficoltà penso l'anno che dolore aia che aia che sto andando che stava faccio un bar con la carne di zumbi solo per te c'è un mondo c'è un mondo c'è un titolo dentro anche il mondo c'è un po' di legno c'è un po' di legno c'è un po' di legno aia Faccio l'olivo, così è lo che fa l'olivo. Non è questo? Lì, lo contrario. Ecco qua. Allora. Ha ha! Ma ci riprendono anche i quattro elementi. Allora, facciamo questo. Quattro ferro, no? Quattro ferro. No, non ce l'ho. Quattro ferro. Inizio a mettere i primi barrel. Dimmi tu come metterli perché io non so. Una fila all'altra. Una fila all'altra. Però questo mi è dubbio. No, allora mettiamo qui. Ma è un marco che non lo sapete, no? Sì. Sì. Sta nella cassa, una delle prime casse. No, non ho capito che non ho capito. Ma non ho capito che non ho capito che non ho capito. Sì. Come li devo mettere? Ehm... Una fila all'altra. Cioè? Posso pure mettere la 3x3? Tipo così? Sì. Sicuramente. E la cassa la mettiamo qui. Ok. Che trasferisce. Ma come si fa questa cosa della cassa, però? Non lo so bene, eh. Che cassa. E' quella dell'ender c'è, stai, no? Poi dice... Ma come si deve dire? Non so spedire qui. Mi trolla. Eccolo. Giù, mi trolla. Questo qui. Sì, tu lo trolla. E' un marito sotto. Guarda, questa è la plus. La parte della stessa mod. Guarda, per ora ci sto mettendo. Guarda, il legno lavorato, il legno normale, terra, sabbia. Ok. Dica, però sta cazzo di mod. Controllo lì se ci manca l'anno. Ah. Non lo controlli mai. No, non ce l'è sta. Perché devo riparmi a secco? Lo passo io. No, no, me lo devo. Me lo rifaccio per me pure. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'ho messato? No, così. Non ce l'ho messato. Insomma, c'ho quello, mannaggia, a me quando scrivo come secchio su per la cosa che lo sanno. No, secchio di che lo sanno. Okay. Sì, vabbè, pietra, ma si è pieno, no, perché si è pieno, no, non si è pieno, no, non si è il problema, in che modo fa arrivare a queste cose, ora c'è un piccolo problema, cioè, lo devo fare di lato, lo devo fare esterno, lo strano, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo Dov'hai? Fuori Perché? Mi serve uscire fuori Ma dove cazzo sei uscito? Dal lato aperto, c'è il buco, no? Dove? Allora, e guarda qui Ciao Perché? Perché mi serve un attimo, uscivi, scopri, lo fa fuori l'arquius Ma l'arquius non gli serve, nel genere, però gli serve spazio Qui dietro E' veniva l'arquius E devo far entrare poi Resumo il tubo Come si fa a non prendere stack? A non prendere le stack? Il CTRL, secondo me Il premio E tiri un colpo Una per la presenza Tutte Ah Ok, ok Si fa lo shift Allora, la macchius, vedi? Questa è la macchius Sì, quindi? Allora, provo a vedere se così funziona Che ti dice di farlo fuori l'impianto e portalo dentro? Si, in pratica coi dubbi, però dopo ci concentra la ferma Siamo arrivati a vedere Non sollevare l'interno, non sollevare Non sollevare l'interno Non è come questo, deve funzionare Cerca subito, carica l'acqua Che casetta È un colpo È un barbirito Non è una gas Già così sta accumulando, guarda Come ce la fai, porta? Con il tubo Ma finisce l'acqua così? No Si, ma aspetta Adesso c'è niente a finire Infatti non finisce con la Quella cosa lì A me sembra di sì Ma non la so Guarda No, Elena, non è infinita Non la so, è bene Non l'ho messa in un piano La dico più larga? Non la so, è bene In che senso? Non la fa sparire Non succede nulla Non sparisce Ebbene Ecco Adesso viene Manca solo uno Ok Oh C'è la scheda Di davanti a quanto c'è? Io ho un ragno Ammazzato Allora Adesso l'acqua E se carica Per caricarla Per caricarla Per caricarla Per caricarla In configurazione Ok Da qualsiasi dato Può uscire Qui sopra Voglio che Quest'acqua arrivi lì Ecco come No C'è il dubbio Noi facciamo Andare l'acqua lì Un che tubbio Se cos'era Quello lì Che trasferisce In un 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 volevo fare come ultima cosa, questa cosa qui, dove c'erano i fili con il cactus? i fili con il cactus? ah no, non c'erano i fili, si usano direttamente la pasta del cactus mi sembra che tu dovrei vedere le cose vecchie, aspetta posso fare una cosa più facile non ho cambiato il modo del crasto ecco, si fa benissimo dal cactus green dal cactus green, dal colore del cactus, sicuramente stava fatta vedi? perchè? vedi dai mi servono i bastoncini, tirami i bastoncini tirami i bastoncini tirami i bastoncini che c'hai ripresi? ritirati guarda via ma hai tirati finiti mo? ora sei scemo guarda che la pasta vai via, mostro ti sei percato di sbagliare non hai la pezzoni che viene cristo che viene cristo sei scemo che dai si ma tu sei scemo non so che pazienza come dico io ti devo dare un beneficenza se va la cacchus din cazzalola ah ah questo si vuole cacchus basso di barrel di barrel eh è il tuo screen è il tuo screen è per war non si faceva molto so si però io che era scena io non me lo dico no o c'abbiamo un ragno che sta a rompe le palle comunque devo fa una coltivazione di cactus intanto non serve l'acqua non basta mettere la sabbia si basta non faccio l'acqua non faccio l'acqua non puro no 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 come viene che non lo facciamo oggi allora se tu vedi già nel pipe si è ficcata l'acqua guarda che roba guarda che roba si e qui sta ancora via ma qui non è calato ma come si fa per apportare a tutti passi dietro io l'appoggio senti assoluto fa una struttura dietro che praticamente togli sto vetro e gli fai passare si si lo vedono poi lo vedono poi lo vedono adesso no se dobbiamo staccare non lo vedono non coppia va bene poi intanto già siamo al buon punto già abbiamo una giornata questa qui perché porca guarda un po' devi buttare un altro secchio no io mi faccio i tanker lo devo fare anche così ce l'ho verso dentro se no no non potremmo fare un dici secchio vediamo un po' questo come sta andata guarda guarda che c'è qui che cosa si è fermato si è fermato perché ahia chi è in questa parte ah c'è qualcuno il prezzo al più presto al più presto dovremmo andare a prendersi viene a farcire le scarpe quelle che zompettano no quelle per non far danni dalle ruote ah si è fermato perché ha finito il carbone si ha finito quel carbone lì se adesso io lo vado a prendere lo speciano ma gli hai messo una cassa vicino aspetta mi forse la buttano nella cassa no no la buttano nella cassa ti è vero ma mi è che cattus non posso se piantano però non lo faccio per ti muo perché tanto ma è stacchiamo si si aia bisogna stare attenti con i cactus fanno danni mi ho piantati 5 per ora rimetto un po' ma io direi che è tutto per ora vero? salta no staccare il video mentre saluto ciao da culo ciao profilo muori ciao a tutti alla prossima